K.O. imprevisto per la pallavolo Cirignola. Nella terza giornata della V2 femminile di volley, le ragazze, allenate da Michele Valentino, sono state scompitte per 3-1 in trasferta dalla Svortiglia Bisceglie. Reduci da due vittorie contro prima donna vari per 3-2 e in casa contro contro piano per 3-0, l'inizio della gara si mantiene su alti livelli. Ma questa volta qualcosa cambia. L'assenza di Margaret Altomonte, la maga, dal sessetto di partenza, deniamente sostituita da Anna della Penna, sembra prefigurare la condizione del successo. Le Panthere, vinte il primo set 25-21, da secondo subiscono la prepotente rimonta delle Vicegliesi, che si abitano al duo delle sorelle Losciale, Vera ed Arianna, quest'ultima ex Fenice Libera Virtus, e Carmen Bellapianta. Pareggiano il conto 25-21. Terzo e quarto set combattuti, specialmente nella quarta equazione, quando le Panthere o Pantine avanti 13-8 si fanno rimontare e quindi appaiono in difficoltà tanti, troppi errori. E così Bisceglie ne approfitta e si porta a casa la posta in valio. 3-1, ultimi due parziali per Bisceglie, 25-20, 25-21. Da martedì si torna ad allenarsi per preparare bene la sfida casalinga contro Isernia, il prossimo 29 ottobre, vincente 3-0 sul Taranto.